A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia che apriamo con la cronaca con un infortunio mortale sul lavoro. E' morto schiacciato da un mezzo pesante Mauro Morassi, 55enne friulano originario di Zulio. La tragedia è venuta questa mattina a Marghera in un deposito in uso alla Sacaim in via Righi, zona interessata anche da alcuni lavori di asfaltatura. Il conducente del TIR, un 36enne di Tavagnacco dipendente della friulana Bitumi, in fase di manovra non si sarebbe accorto della presenza dell'uomo investendolo. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine Morassi si trovava in un punto cieco fuori dalla visuale del guidatore del mezzo. Inutili i soccorsi, Morassi ha riportato ferite troppo gravi ed è morto all'istante. Sul posto il personale sanitario che ha tentato a lungo di rianimarlo e anche la polizia locale si indaga ora per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. La vittima lavorava per la Sacaim, azienda di costruzioni veneziana molto conosciuta. E non ce l'ha fatta Benjamin Ionel Cocciori, il 21enne di Frisanko, rimasto gravemente ferito nella notte tra il 24 e il 25 marzo nell'incidente lungo la rivirasca di Pordenone. La BMW Serie 3 sulla quale viaggiava assieme ad alcuni amici si è schiantata contro un albero sul ponte di Adamo e Deva cartocciandosi. Il 21enne che viaggiava sul sedile posteriore senza cinture di sicurezza è morto in seguito alle ferite riportate. È stato affidato alle cure dell'equip di rianimazione e terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone ma non ha mai ripreso conoscenza dopo l'incidente. Ferita ma non in pericolo di vita, una 19enne di Azzano Decimo, fidanzata del conducente, un 25enne di Zopola, rimasto illeso. La sua posizione ora si è ulteriormente aggravata. Il giovane di Zopola, risultato positivo all'alcol test, è indagato per omicidio stradale. Guidava con un livello di alcol nel sangue, ben oltre la soglia massima consentita. E un altro incidente si è verificato in autostrada questa mattina, poco dopo le 10, nel tratto Villesse-Palmanova lungo la A4. Altro nel tamponamento sono rimaste coinvolte diverse vetture, una delle quali si è ribaltata terminando la corsa, ruote all'aria. Due le persone ferite in modo serio ma non sono in pericolo di vita. Sono state soccorse dal 118 e trasportate all'ospedale di Udine in elicottero. Sul posto anche i vigili del fuoco e la pola strada. Nel primo pomeriggio, erano da poco passate le 13.30, un'auto è uscita di strada lungo la statale 14, in comune di Cervignano, all'altezza del cavalcavia in direzione Trieste. Le due persone a bordo hanno rimediato solo ferite lievi. Sono state portate al pronto soccorso di Palmanova per accertamenti. Sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine. Ed ora parliamo di un curioso episodio di cronaca che è avvenuto nella tarda mattinata di sabato in Borgo, stazione a Udine. Protagonista un trentenne egiziano in città con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio. L'uomo si sente male a casa e chiede aiuto al 112. Sul posto il 118 che non riuscendo ad entrare nell'appartamento ha allertato i vigili del fuoco ed una pattuglia della polizia. Il trentenne era steso a terra una volta stabilizzato. Il personale sanitario voleva portarlo in ospedale per accertamenti. Ma l'egiziano ha iniziato a dare in escandescenza aggredendo i soccorritori e cercando di sottrare la pistola a uno degli agenti. Nella violenta colluttazione si è passati anche alle minacce con invocazioni ad Allah e Maometto. L'aggressione si è conclusa con l'arresto dell'egiziano. Ma mentre veniva trasportato in questura si è sentito nuovamente male. Il soccorso dalla guardia medica ha ripetuto la scena precedente scagliandosi contro l'agente di scorta. La fine è stato ricoverato in ospedale in attesa del processo per direttissima. E oggi si celebra la fiesta dei patrie dal Friul. Per spiegarci il significato anche storico della ricorrenza è venuto nei nostri studi Marcus Maurmaier, sindaco di Valvasone Arzene, località che domenica prossima, 8 aprile, ospiterà il culmine delle celebrazioni. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. 3 aprile 1077 il patriarca Sigeardo ha ricevuto l'investitura a parte dell'imperatore Enrico IV con il riconoscimento di quello che era il potere temporale su un territorio molto esteso che andava dall'Alivenza fino al Timavo e di fatto nasce dopo una serie di lunghe vicissitudini storiche la patria del Friuli che sappiamo sarà poi consegnata a Venezia nel 1420. Una delle prime forme di feudalesimo molto democratiche perché sappiamo che il patriarca aveva già previsto la presenza di una camera di consulenza, di insieme di consulto per le decisioni più importanti per la patria del Friuli. Quest'anno abbiamo avuto l'assenso da parte della giunta regionale di celebrare il 3 aprile insieme anche ai comuni di Casarse della Delizia e di San Giorgio della Richinvelda. Quindi non solo Valvasone e Argene. E oggi iniziamo proprio a Casarse della Delizia con un ricordo di un personaggio storico importante di un intellettuale qual è Pasolini. Parliamo di domenica. Iniziamo ad Argene proprio, di fronte alla casa municipale ci raduneremo, saremo accompagnati dalla filarmonica, faremo l'alza bandiera in piazza 73 Smo Lombardia che è la piazza di fronte alla chiesa di Ardene, alzata la bandiera al vessillo del Friuli e entreremo in chiesa, ci sarà la celebrazione in Friulano. Della messa. Della messa. E poi uscendo ci saranno gli Scampanotadors di San Lurins che faranno una serie di suonate con le campane del campanile di Ardene. Poi proseguiremo in corteo con la filarmonica di Valvasone fino all'auditorium delle scuole medie di Valvasone e Ardene. Ci sarà un movimento civile con tutti i riconoscimenti. E tra l'altro ci sarà anche il passaggio della stecca della bandiera in questo caso da parte di Sapada che ci consegnerà la bandiera che era stata consegnata l'anno scorso e che ha portato tanto bene a Sapada. Il 3 aprile è una vera festa, tanto per rievocare quanto per ripensare in chiave moderna le forme di autogoverno e di rappresentatività che per un lungo periodo hanno caratterizzato la patria del Friuli. È quanto emerso dall'incontro in Regione Audine tra rappresentanti del Consiglio regionale dell'Arlef che in occasione della ricorrenza dello Stato patriarcale friulano hanno reso noti gli atti della seconda conferenza regionale di verifica e proposta sull'attuazione della legge 29 del 2007 dedicata alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione della lingua friulana che si era svolta nel dicembre dello scorso anno. Durante la conferenza erano emerse situazioni di difficoltà, pertanto l'auspicio è che il Consiglio regionale appoggi sempre di più la festa della patria del Friuli così come le istituzioni, le scuole, le università, i comuni e tutti gli enti locali. Battersi per la festa del Friuli è stato aggiunto significa battersi per un popolo che vuole ancora dire la sua e per tutti quei popoli, in particolare in Europa, che chiedono la propria autonomia. Nell'occasione è stato illustrato anche il programma delle celebrazioni ufficiali della Fiesta e dei Patri del Friuli che domenica prossima sarà ospitata da Valvasone e Arsene e che saranno precedute da un calendario ricco di eventi con manifestazioni sportive, rappresentazioni teatrali, concerti e conferenze promossi su tutto il territorio friulano da parte di comuni, enti e associazioni. La festa sarà caratterizzata pure dall'assegnazione di una borsa di studio a Martina Basana, la cui tesi, che sarà discussa anche durante la prossima sessione di laurea in giurisprudenza all'Università di Udine, approfondisce l'organizzazione territoriale della regione con particolare riferimento alle aggregazioni caratterizzanti governi locali. Il bando era stato promosso dal Consiglio regionale e aveva come tema l'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento agli elementi costitutivi della specialità regionale e allo sviluppo della stessa. E nel contesto della Fiesta e dei Patri e dal Friuli si svolgerà anche la seconda edizione della staffetta delle lingue minoritarie, in programma il 7 e l'8 aprile con partenza da Aquileia ed arrivo proprio a Valvasone Arze. Nella manifestazione sportiva promossa dalla regione e dall'Arlef e coordinata dalla Maratonina Udinese si snoderà lungo le strade del Friuli storico su un percorso di 118 chilometri attraversando 20 comuni e coinvolgendo oltre 120 podisti. Si parte da Aquileia sabato 7 aprile alle ore 8 di mattina per cui dalla Basilica attraverseremo tutto il territorio della bassa friulana per cui verso Ruda Fiumicello per arrivare a Palmanova e seguiremo poi la strada che passerà attraverso Gonars Castions di strada per arrivare alla sera a Varmo e il pomeriggio, il tardo pomeriggio a Varmo, a Ville di Var in pratica. Questo sarà lo stop, il primo stop, no? Sono circa 54-55 km di tragitto, il primo tragitto. Ecco, e invece il giorno dopo l'8 si parte sempre da Varmo e si continua fino a Valvasone Arze. Lo scopo della staffetta è quello di, attraverso il gesto della corsa, di coinvolgere le varie associazioni dei territori che si attraversano per così portare il messaggio che lega la corsa alla patria del Friuli perché il fatto di coinvolgere vuole anche così rendere più evidente cos'era la patria e cos'è la patria del Friuli perché noi ovviamente arriviamo, facciamo anche una piccola sosta davanti a ogni municipio attraversato invitiamo il sindaco o un rappresentante dell'amministrazione comunale a dire due parole su questo passaggio, su questo evento metteremo la bandiera del Friuli, la bandiera della regione, la bandiera italiana vicino ai rappresentanti dell'amministrazione diciamo che il testimonial è rappresentato dalla bolla patriarcale che verrà consegnata a ogni rappresentante del comune Ieri si è conclusa la stagione nella maggior parte dei poli sciistici della nostra regione il primo bilancio è molto soddisfacente con una crescita media del numero di ski pass del 30% La stagione sciistica registra incrementi a doppia cifra in tutti i poli gestiti da promoturismo il bilancio provvisorio, con dati fino al giorno di Pasqua, parla di 656.000 primi ingressi in crescita del 30% rispetto alla stagione 2016-17 che è la risultata avara di neve Brilla Piancavallo dove i primi ingressi sono cresciuti del 54% Lo Zoncolan, con 214.000 primi ingressi e un aumento del 41% è tornata a essere la capitale della discesa alpina della regione Segue per volume di sciatori il polo di Tarvisio Lussari, con 202.000 in aumento del 17% Se la Nevea, unico polo che rimarrà aperto ancora fino al 25 aprile, ha registrato finora 45.000 primi ingressi Soddisfazione da parte del direttore di promoturismo Marco Tullio Petrangelo che spiega come i risultati siano attribuibili soprattutto a un ottimo inizio di stagione a dicembre Già dalle prevenite stagionali si poteva infatti intravedere una fase positiva Precipitazioni nella norma e l'effetto montagna imbiancata hanno portato a un ritorno di moltissimi appassionati Non si placano le polemiche sulla tratta ferroviaria Sacile-Maniago L'ultima settimana, spiegano dal Comitato Pendolari, è stata un calvario da giovedì 29 a sabato 31 marzo Sono state 10 le soppressioni e vari ritardi superiori ai 25 minuti A Pasqua e Pasquetta altri guasti con soppressioni e ritardi fino a 107 minuti Un disagio sia per chi utilizza il treno, letteralmente abbandonato in stazione senza informazioni sia per i tanti automobilisti prigionieri dei passaggi a livello Scene ormai di ordinaria follia, dicono i pendolari Ieri una famiglia partita per la tradizionale gita di Pasquetta è salita a Maniago alle 14.14 ed è giunta ad Aviano alle 16.30 con due ore di ritardo visto che il treno si è fermato a causa di un passaggio a livello guasto Sconsolati sono scesi e si sono fatti venire a prendere da parenti Il treno per la cronaca è giunto a Sacile con 107 minuti di ritardo, raccontano i pendolari Non è andata meglio a chi aspettava il Sacile-Maniago delle 15.10 soppresso dopo 50 minuti d'attesa e non sostituito da bus Il primo treno a partire è stato il Sacile-Maniago delle 17.10 Una situazione da girone dantesco, ne sanno qualcosa gli studenti del polo di Sacile che per tutto l'inverno hanno atteso al freddo, visto che le sale d'aspetto erano chiuse hanno subito numerosi disservizi, arrivando spesso in ritardo utilizzando mezzi alternativi come il taxi per raggiungere la scuola Siamo arrabbiati e ora riteniamo che qualcuno dovrà assumersi le proprie responsabilità Concludono i pendolari Vogliamo vederci chiaro e valuteremo quali azioni mettere in atto in ogni sede opportuna Per chi ha problemi di indebitamento o guai finanziari nasce a Pordenone, primo esempio in Italia uno sportello di consulenza gratuita L'idea è dell'associazione Piene Tutela che mette a disposizione un team di professionisti Nasce a Pordenone, primo esempio in Italia uno sportello di consulenza patrimoniale e finanziaria per persone o aziende con problemi fiscali che vogliano sentire un parere di esperti su come muoversi Il progetto, che prevede anche un sostegno psicologico è partito dall'associazione Piene Tutela attiva da un anno in città, soprattutto sul fronte di consulenza antitruffe Sembrava una cosa utile fornire una consulenza maggiore rispetto a quelle che sono le consulenze che hanno privatamente i singoli cittadini una parola in più che potesse aiutare in casi problematici proprio le persone Noi mettiamo a disposizione primari professionisti della zona composti da fiscalisti, avvocati tributaristi, avvocati civilisti e penalisti Supporto psicologico che verrà fornito in loco allo sportello dalla dottoressa Daniele Quattrone, che è una psicologa che qualora ravvisi la necessità di adottare delle procedure nei confronti delle persone perché visibilmente scosse dalla situazione potrà autonomamente gestire la questione Dove e in che orari sarà possibile rivolgersi allo sportello? Il mercoledì in via Pontinia, che è il quartiere dell'Orei Grande a Pordenone invece il venerdì in piazza Lozzera a Torre sempre dalle 10 alle 12 di mattina Un'idea proposta dall'amministrazione comunale che l'ha subito sostenuta L'associazione Piene Tutela, che è un'associazione che si rivolge gratuitamente peraltro a tutti i cittadini, è venuta a farci questa proposta e credo sia stata interessante che la possibilità di avere un avvocato a disposizione che ti tuteli quando oggi si è sempre su una linea falsa che potrebbe dire se nella legalità o nell'illegalità credo che sia una cosa molto importante È il Friuli Venezia Giulia, seguito da Trentino Alto Adige e Liguria la prima regione italiana per riscossione dei tributi e pagamenti delle spese correnti è quanto emerge da un'indagine condotta da Crif Ratings sulla finanza pubblica locale in base ai numeri dell'istituto di ricerca bolognese dietro il terzetto di testa si piazzano Valle d'Aosta e Lombardia mentre in fondo alla graduatoria si posizionano Sicilia, Calabria e Campania le tasse tributi più difficili da riscuotere sono la tassa sui rifiuti e l'Imu guardando ai cittadini, argomenta ancora Crif a pagare in media più tasse e tributi sono quelli residenti in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania meno vessati invece i residenti di Friuli Venezia Giulia Veneto, Trentino Alto Adige, Molise, Calabria e Sardegna L'ex asilo di via Selvatico a Pordenone sta per tornare a nuova vita grazie ad un piano di recupero del comune che ne fa un centro artistico L'ex asilo di via Selvatico a Pordenone a due passi dal centro storico verrà riqualificato e diventerà un polio artistico e teatrale sarà il comune a recuperare lo stabile dove hanno giocato tanti ex bimbi pordenonesi ma che da anni è in gran parte inutilizzato il sindaco Alessandro Ciriani L'asilo di via Selvatico rappresenta un pezzo di storia della città ed era davvero un peccato vederlo in quelle condizioni investiremo dei soldi e un bando garantirà che quella struttura venga utilizzata per iniziative di carattere culturale e teatrale aperta alla comunità quindi un luogo non solo dove si svolgeranno le iniziative culturali ma in cui ci sarà un'interazione con gli abitanti del luogo L'immobile e il suo giardino misurano circa 1600 metri quadrati che ospiteranno attività anche per disabili L'operazione rientra nel piano di rigenerazione degli spazi abbandonati per destinarli a fini sociali, culturali e aggregativi già sistemati e riaperti dal comune i prefabbricati di via Sanquirino la sala dell'ex PN Box e il bar della biblioteca civica Questo è il mantenimento di un impegno preso con la città di fare manutenzione sui edifici esistenti come le strutture sportive, culturali e aggregative ma anche restituire a Pordenone quegli edifici di pregio che erano stati dimenticati da tempo o in stato di abbandono o in stato di forte degrado Weekend da incorniciare per l'Isola del Sole che a Pasquetta ha registrato il tutto esaurito Pasquetta con il Sole e Grado registra il tutto esaurito è stata una giornata quasi estiva quella registrata nel lunedì dell'Angelo dall'Isola del Sole oltre ai tradizionali turisti austriaci che hanno affollato il centro storico anche per i riti della settimana santa qualche migliaio di persone si è recato sull'Isola per trascorrere in serenità il giorno successivo a quello di Pasqua complice la bella giornata e le temperature quasi estive sono andate a gonfie vele e le attività chiuse finora, prima e fra tutte le gelaterie e i numerosi luoghi dove incontrarsi per scambiare qualche chiacchiera e bere qualcosa in compagnia apprezzata l'apertura del ponte girevole utilizzato da colonne di auto che si sono recate a grado mentre finalmente è diminuito il traffico sulla strada per Monfalcone apprezzata anche l'Isola Santuario di Barbana che in due giorni ha visto la presenza totale di oltre un migliaio di persone affollate anche le celebrazioni pasquale in Basilica tante le persone anche nella frazione di Fossalong nella vicina Valle Cavanata e a Punta Sdoba tra chi si è fermato per uno spuntino per rilassarsi tra i campi e chi ha scelto le lunghe passeggiate in riva al mare un weekend da incorniciare dunque prelude la prossima stagione estiva Dalila Di Lazzaro è in questi giorni a Udine sua città natale per elaborare insieme con il fotografo Gianfranco Angelico benvenuto una campagna di sensibilizzazione sui problemi dell'udito in collaborazione con Maico se sei sordo sei solo la sordità ti isola dice la Di Lazzaro per parlarne incontrerà i cittadini domani alle 18 nella Sala del Popolo al Palazzo Municipale di Udine ed esordisce domani all'interno della trasmissione di Telefriuli Family in onda in diretta alle 12 e 15 la nuova rubrica Lampi di Genio Franca di Feder Consumatori del Friuli Venezia Giulia darà consigli pratici, semplici ma molto utili sui lavori di casa Come togliere una macchia di cera o di cioccolato da una tovaglia? Come preparare il bucato per evitare danni in lavatrice? E come stendere i panni in maniera ottimale? I lavori di casa non sono sempre così facili come si pensa e per risolvere alcune situazioni ci vorrebbero dei Lampi di Genio proprio quelli che vi regalerà la nuova rubrica che partirà mercoledì 4 aprile all'interno di Family Casa Realizzato in collaborazione con Feder Casalinghe FWG Lampi di Genio ha come protagonista Franca Spollero coordinatrice dell'associazione Nessun problema domestico vi spaventerà più Puntata dopo puntata Franca Spollero vi insegnerà a lavare e stirare smacchiare e riordinare come dei veri re e regine del focolare Anche in questo caso, come sempre per Family potete chiedere consiglio o suggerire idee scrivendo a family at ilfriuli.it Ed ora facciamo un salto a teatro andiamo a San Vito al Tagliamento Dopo le serie televisive inglesi dedicate ad Acatacristi Edoardo Erba, drammaturgo e regista italiano ha adattato un famoso romanzo giallo della scrittrice anglosassone Miss Marple, giocchi di prestigio per una commedia contemporanea fresca di debutto sui palcoscenici in Italia fra i quali l'auditorium del centro civico di San Vito al Tagliamento dove è andata in scena quale ultimo appuntamento di stagione del circuito ERT ente regionale teatrale L'adattamento di Edoardo Erba con allestimento dalla compagnia agli ipocriti Melina Balsamo e regia di Pierpaolo Pepe presenta una pièce ricca di sottile ironia ambientata alla fine degli anni 40 in una casa vittoriana della campagna inglese nella quale le cose non sono mai come sembrano nel ruolo della più famosa detective di Agatha Christie Miss Marple una brillante Maria Amelia Monti affiancata da un cast con Roberto Citran Sabrina Scuccimara Sebastiano Bottari Marco Celli Giulia De Luca Stefano Guerrieri e Laura Serena dalle note di regia traspare come non stupisca che fra tutti i generi letterari e non il giallo rimanga il più popolare come testimonio al proliferarsi di serie tv che portano il marchio e quello dei sottogeneri noir thriller poliziesco ciò che invece sorprende è che un ambito così truculento abbia fra i capostipiti un'anziana signora inglese Agatha Christie e che proprio a lei dobbiamo l'invenzione di una delle prime criminologhe della storia ed ora la vignetta preparata per noi da Fernando Venturini e la linea va ora a Marco Virgilio per le previsioni del tempo Buonasera ben trovati oggi edizione veloce per la partita l'incompra della partita allora vediamo la situazione qui vediamo le nubi delle piogge sul nord ovest da noi un aumento della nuvolosità c'è aria più umida che arriva perché si sta avvicinando questo fronte oggi vedete ho inserito qui la situazione con il fronte che si avvicina domani e tra domani e giovedì ci interesserà con delle precipitazioni poi si andrà verso un tempo migliore però intanto le temperature di oggi fino a 17 gradi i valori nonostante insomma le nubi arrivate però ci sono stati anche dei momenti con schiarite ampie hanno portato fino a 17 gradi le temperature vediamo allora il tempo previsto per domani un cielo coperto con precipitazioni generalmente tra deboli e moderate ma fino ad abbondanti sul settore orientale in particolare tra le prealpi giuglie e scendere fino alla costa orientale quindi fino poi anche alla provincia di trieste le temperature non varieranno molto la quota neve è prevista intorno ai 1600 metri con i 20 da sud fino a moderati lungo la costa andiamo al giovedì e siamo a vedere un graduale miglioramento ma solo dal pomeriggio sera al mattino ancora cielo coperto con la possibilità di piogge che saranno tra moderate e abbondanti in particolare sempre più colpite le zone orientali come quantitativi di pioggia la possibilità di qualche locale rovescio forse anche temporalesco e la quota neve che più o meno rimane attorno ai 1500 metri anche i 20 permangono dai quadranti meridionali da sud ovest lungo la costa sulla pianura da sud est ma comunque in genere abbastanza deboli non cambiano molto neanche le temperature che arrivano fino ai 15 gradi un'occhiata veloce a cosa accadrà poi ecco il miglioramento arriva l'alta pressione arrivano il sole fino a domenica per ora godiamoci questi giorni con lo zero termico che sale oltre anche i 3000 metri e soprattutto le temperature che si porteranno per la prima volta fino a 20 gradi o anche qualcosa di più una situazione che non è destinata a durare moltissimo perché potrebbe arrivare delle piogge già lunedì ma avremo modo di parlarne per ora è tutto vi saluto arrivederci è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie come sempre per la vostra cortese e attenzione vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti